Io sono la vite e voi i tralci e il padre mio è il vignaiolo. Inizia così il Vangelo della Quinta Domenica di Pasqua. Che cosa vuol dire? Avete presente un vigneto? La vite e poi i tralci. E l'agricoltore, il vignaiolo, cura la vite. Ci vuole tanto tempo, d'inverno, in primavera, d'estate, va curata molto bene perché alla fine porti frutto. E' quello che ci chiede Dio. Porta frutto. Ma come puoi portare frutto se il tralcio rimane innestato nella vite? Perché la linfa te la dà la vite. La vita vera te la dà Gesù Cristo. E Dio ogni tanto ci pota. Potare è un verbo che non piace tanto al tralcio nella vite. Perché vuol dire tagliare. Avete presente quando un vignaiolo pota i tralci? Esce fuori una lacrima. Quasi per dire mi ha fatto male, mi fa male. Ma quella lacrima viene asciugata dal bellissimo grappolo d'uva nell'autunno. C'era bisogno di quella lacrima. E anche quella lacrima il tralcio l'ha versata quando si potava, cioè quando si faceva freddo, inverno. Il frutto lo raccoglie in autunno, dopo la primavera, dopo l'estate. Vedete? Ognuno di noi ha bisogno di essere potato. Abbiamo dei rami secchi, il nostro orgoglio, le parole offensive, l'attaccamento alle cose, il pensare solo a noi stessi. I rami secchi sono presenti nella vita di ognuno di noi. Le cose effimere, corriamo dietro a nulla. Ogni tanto bisogna un po' tagliare. Però, attenzione ragazzi, eh! Non andiamo a tagliare là dove si porta frutto. Cosa voglio dire? Quante volte tagliamo una preghiera? Quante volte tagliamo una messa? Ogni tanto trovo dei giovani che mi dicono, eh, oggi è domenica, non sono andato a messa. Sì, un po' di rimorso, mi spiace un po'. Poi li ritrovo la domenica dopo, eh, oggi è domenica, non sono andato a messa. Ma, eh, sono venuto a trovarmi gli amici. Ho in passato una giornata bellissima, sono proprio contento di questa giornata. Poi lo incontro la domenica dopo, eh, beh, oggi devo andare a sciare, non potevo mica. E poi lo incontro ancora la domenica dopo. Mizzica, oggi un cinema bellissimo, una festa stupenda. E alla fine Dio è dimenticato. L'hai potato. L'hai buttato via Dio. Era un ramo secco per te. No, pota le cose che non ti servono, perché tu possa portare veramente frutto. Sapete che paio di forbici usa il padre, il vignaiolo, per potare? No, non queste. Questa. È la parola di Dio. È il Vangelo che ci pota. Quando lo apriamo e leggiamo Ama il tuo fratello come te stesso. Ma vabbè, forse l'ho amato poco. Non giudicare. Guarda prima la pagliuzza che c'è nel tuo occhio. Non la trave nell'occhio del fratello. Mizzica, quante volte l'ho giudicato. E avanti. Questo ci pota. Perché ci toglie le cose brutte. E ci fa vedere che portare frutto è gioia, è pace. È la cosa più bella che possiamo fare. Ma per portare frutto abbiamo bisogno di fare come il tralcio. Dimorare nella vita. Cosa vuol dire dimorare? Vuol dire rimanere. Vuol dire rimanere nella persona amata. Dentro, il luogo dell'amore. Pensate a un bambino nel grembo della mamma. Se non dimorasse morirebbe. Ha bisogno di tutto ciò che la mamma gli dona. E la mamma in quel momento dimora nel bambino. Anche se non c'era ancora tra le braccia. Ma tu dove dimori? Dove abiti? Perché dimorare, rimanere come ci chiede il Vangelo, ci fa portare frutto. Portare è un verbo di amore. Vuol dire voler bene. Dio ci vuole bene quando ogni tanto ci toglie le cose che non servono. Per portare frutto. E alla fine del Vangelo Gesù ci dice senza di me non potete fare nulla. Ve lo ricordate Sherlock? Voleva diventare un grande investigatore, capace di risolvere tutti gli enigmi e i misteri del mondo appassionato di gialli, polizieschi, avventure. Aveva diventato talmente bravo che quando giocavano a una caccia al tesoro arrivava prima di tutti lui negli indizi. se vedeva un film trovava subito qual era il colpevole. Pensate che un giorno al ventinesimo piano abitava una persona che al mattino usciva di casa chiamava l'ascensore al suo piano scendeva al piano terra e andava a lavorare al ritorno di casa, a casa chiamava l'ascensore al piano terra scende al quinto piano e poi fa gli altri piani a piedi ogni giorno allora Sherlock comincia a capire ma come mai va a piedi non può schiacciare più i nan... un nano era schiacciava solo il quinto piano non riusciva ad arrivare più su vedete Sherlock un giorno rovistando tra i cassetti e gli scaffali della libreria facendo una ricerca Sherlock trovò un biglietto dove c'era scritto senza di me non potete fare nulla cominciò ad indacare chi sarà mai sarà la televisione? vabbè c'è stato un periodo che non c'era si poteva vivere lo stesso c'era forse il telefono vabbè anche quello eh c'è stato un periodo che non c'era eppure abbiamo vissuto lo stesso saranno i videogiochi per lo... pensò Sherlock ma no possiamo giocare con tanti altri giochi ah sì un giorno è andata via la luce la corrente l'elettricità non possiamo fare nulla eh ma sì ma è arrivata tardi si viveva anche a lume di candela il petrolio ebbè andiamo in bicicletta il denaro ma ci sono delle popolazioni in giro per il mondo che mica hanno il denaro e vivono benissimo la salute senza quello non possiamo fare nulla eh è vero penso Sherlock però ci sono tante persone che sono meno mate hanno delle difficoltà eppure riescono a fare delle cose bellissime pensate un po' vanno a sciare giocano a pallacanestro giocano a calcio nuotano bellissimo no no non è quello papà e mamma vabbè è vero però posso anche stare da solo ma cosa sarà mai quella cosa o quella persona di cui non possiamo fare assolutamente a meno non possiamo fare nulla senza di lei elementare Watson è la vita senza la vita non possiamo fare nulla poi Sherlock entrò in una stanza e vide un crocifisso e nel cuore e nella mente risuonarono quelle parole senza di me non potete fare nulla non potete non potete non potete non potete di me tempo ma non potete